Tentato omicidio aggravato da futili motivi e questa è l'accusa dalla quale si sta difendendo Sara Clerici, la diciottenne che nella notte tra il 20 e il 21 gennaio dello scorso anno, insieme a un gruppetto di amici, si è resa responsabile del lancio di una bicicletta elettrica dalla balconata dei Morazzi a Torino. Il mezzo colpì Mauro Glorioso, un 24enne che stava attendendo di entrare al locale The Beach e che oggi è costretta a una carrozzina perché è paraplegico. La giovane, difesa dagli avvocati Federico Milano ed Enzo Pellegrin, è l'unica ad avere scelto il rito ordinario e la prima udienza si è svolta questa mattina. Secondo la parte civile, il pubblico ministero, Livia Locci, la Clerici, insieme ai suoi amici, non si sarebbe mai dimostrata pentita di quell'atto, così come non si sarebbe mai assunto alcuna responsabilità. I tre minorenni, che facevano parte del gruppo di cinque amici, sono già stati condannati in primo grado appena intorno ai dieci anni e attualmente stanno affrontando il processo d'appello. Victor Ulnici, che all'epoca dei fatti era il fidanzato di Sara Clerici, è invece stato giudicato con rito abbreviato e nel marzo scorso il Tribunale di Torino gli ha inflitto una condanna a dieci anni e otto mesi per tentato omicidio. Subito dopo il lancio della bicicletta in corso Cairoli, il quintetto si era allontanato raggiungendo le vie del centro. Victor e Sara erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza sparse lungo il tragitto ed erano stati immortalati mentre ridevano e si scambiavano baci. Oggi gli imputati chiedono di poter accedere a un percorso di giustizia riparativa, il cui iter prevede sedute psicologiche e terapeutiche con incontri insieme alla vittima, ma la famiglia di Mauro Glorioso, attraverso i loro avvocati Alessandro Argento e Simona Grabbi, ha espresso parere contrario. Non hanno mostrato alcun pentimento, aveva detto a Marsi in aula un composto e triste Giuseppe Glorioso, papà di Mauro. Richiesta rigettata anche questa mattina per la Clerici da parte del giudice. La giovane resta dunque ai domiciliari con il braccialetto elettronico.